La mostra è stata realizzata per ricordare un momento veramente importante di storia che San Marino ha attraversato, è un momento di grandissima generosità e grandissimo altruismo dei cittadini sanmarinesi che hanno ospitato in quel periodo molto ristretto nel 1944 almeno 100.000 persone, un periodo in cui i cittadini erano normalmente 15.000 e hanno portato quindi, hanno dovuto dividere quel poco che c'era di pane e chiaramente anche di spazi per poter aspettare tantissime persone trattandoli proprio come fratelli. Dunque la mostra è più che altro rivolta per i giovani perché è passato da ormai più di mezzo secolo quindi certi momenti di privazione, di difficoltà sembrano veramente lontani nelle menti delle persone soprattutto dei giovani ed è bene che ricordino questi momenti di storia per ricordare anche le fatiche che hanno poi affrontato i loro nonni. Ringraziamo ancora il console e vi invitiamo ancora a vedere la mostra 100.000 cristalli. presto